Il tempo passa per tutti e anche Pamela Anderson se ne dovrà fare una ragione. La sexy bagnina di Baywatch, che spesso e volentieri finita anche sulle copertine di Playboy, in realtà ha già fatto un passo in avanti, ammettendo di non sentirsi la femme fatale descritta come sempre dalle cronache rosa. Non solo, l'attrice rivela di sentirsi ora molto diversa da quando compriva in costume nella serie televisiva, e lo è davvero. E aggiunge che, contrariamente a quanto i media e i siti di gossip dicono, non sarebbe mai stata una fatalona sexy e inafferrabile. In un'intervista a Buzzfeed, la prosperosa Anderson ha infatti dichiarato, non mi sono mai sentita così perfetta e bella come mi descrivono. L'attrice 45 anni ha poi aggiunto di essere felice di invecchiare, perché in questo modo la gente è costretta a non vedere solo e soltanto il suo sex appeal. Ora io mi chiedo, cos'altro dovremmo vedere in panela? Ciao! 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 Grazie a tutti